Ultimo messaggio, ma che bisogno c'è di dire tutte quelle parolacce? Che messaggio dai a tutti i ragazzini che ti guardano? Sì, ma tu dove vivi? Vivi in una chiesa, in un convento, ma dove vivi tu? Ma tu esci di casa qualche volta. Ci guardiamo una grande band che è nata, è morta e risorta, ancora grande, è tornato Alford con loro. Loro si chiamano Judas Priest, il brano si chiama You Got Another Change Time.